Parlare di programmi, di programmati interventi in uno dei quartieri più antichi della città. Infatti nei giorni scorsi si è verificato un crollo nella Real Cittadella ed è scattato un sopralluogo per verificare il da farsi. È una delle zone di grande pregio storico di Messina. La Real Cittadella nella zona falcata che si affaccia sullo stretto risale al 1600 ed è stata realizzata dagli spagnoli come insediamento sotto il regno di Carlo II. Oggi gli edifici, quartieri interi e bastioni di quella che era una vera e propria città nella città sono a rischio crollo dopo quelli parziali avvenuti nei giorni scorsi a causa del maltempo, degli incurio e degli intemperi a cui sono quotidianamente sottoposti, vista la posizione. L'emergenza dell'ennesimo crollo è imposto nei giorni scorsi un sopralluogo d'urgenza dell'autorità portuale, della soprintendenza ai beni culturali e del comune per studiare le contromisure e preservare i reperti. Il nodo è la proprietà della Real Cittadella e quindi chi deve intervenire. Perché se l'area è dell'autorità portuale di sistema, al demanio non risulta nulla circa la proprietà e la competenza degli edifici. Il mio presidente e l'autorità portuale Mario Mega ha assicurato l'intervento dell'ente intanto per bonificare la zona dai tanti manufatti che nel tempo hanno reso l'area così degradata. Una gara da 450 mila euro per le demolizioni di circa 2000 metri cubi di cemento che dovrebbero riportare alla luce e fruibile l'interarea della Real Cittadella. L'obiettivo condiviso con comune soprintendenza è quello di realizzare un parco storico naturalistico che si affacci direttamente sullo stretto di Messina con la consapevolezza che non si può più perdere tempo.